L'altra voce Notizie Informazioni Dibattiti Parole ed opinioni Tante voci dalla tv L'altra voce, una voce diversa L'altra voce E' un programma di Remo Cristallo Con la partecipazione in studio di altri pastori evangelici della Campania Cari amici, cari telespettatori Rieccoci al salottino dell'altra voce Questo programma fatto all'interno del mondo delle chiese evangeliche Per trattare temi che possono riguardare la vita spirituale, la vita sociale E altri approfondimenti Talvolta abbiamo trattato anche temi che possono riguardare la cronaca Ma questa serie di trasmissioni è dedicata al mondo della disabilità E la fede Quindi noi tratteremo in questa nostra puntata Tratteremo l'accettazione della disabilità Per l'occasione abbiamo invitato in studio il pastore Michele Romeo Che già tutti quanti voi conoscete E chi ha seguito la precedente trasmissione abbiamo con noi Sandro Gianneramo e Martina Zardini Marito e moglie, pastori impegnati nell'attività di cura delle anime nelle chiese Insegnanti alla facoltà di teologia pentecostale Carisma e in altre scuole bibliche Molto attenti ai temi legati alla famiglia Legati alla pedagogia infantile Soprattutto molto impegnati anche in questi seminari e conferenze Sul mondo della disabilità Proviamo ad entrare in questo delicato argomento Di come accettare la disabilità Vorrei chiedere innanzitutto al pastore Michele Romeo Che ci raccontava nella trasmissione precedente Come provvisamente per una inattesa malattia Si è dovuto confrontare con la disabilità Quindi la menomazione Di non riuscire a svolgere tutti i movimenti che prima faceva Quali possono essere, pastore Michele I cambiamenti sul piano fisico Che la disabilità o una malattia invalidante può provocare E questi stiamo parlando dei cambiamenti sul piano fisico Ma ve ne sono altri di natura psicologica sicuramente più Certo, infatti per quelli che sono i cambiamenti fisici La persona si deve comunque, volendo o non volendo Adattare per quello che è la sua diversabilità Però ci sono anche purtroppo le barriere culturali Delle persone che comunque certe volte guardano con un senso di pietà Insomma, e questo il diversamente abile Non vuole mai essere considerato come una persona di cui avere compassione, pietà Ma piuttosto che gli altri non gli facciano pesare questa sua menomazione Purtroppo queste barriere culturali sono tremendi E come accennava anche al rispetto Poi per essere riconosciuti La tua disabilità Dove vai e passi per delle commissioni Quali ti guardano sempre con sospetto Questo ci vuole fregare Questo è un falso invadio Cioè, devi anche affrontare questa lotta burocratica Insomma, passando per le varie commissioni E poi non dimentichiamo Per quelli che purtroppo gli capita Un incidente in giovane età Dove non possono ancora avere la pensione Dove fino a poco fa Insomma, lo Stato riconosceva 290 euro al mese Cioè, persone che veramente Hanno dovuto fare i salti mortali Non loro, perché loro purtroppo non potevano più lavorare Ma le loro famiglie per impegnarsi Per portare avanti proprio, insomma, con dignità Per cui veniva meno, non solo la condizione fisica Ma veniva proprio meno la condizione di sopravvivenza Adesso, insomma, grazie a Dio Con questa ultima legge, insomma, hanno un po' adeguato Mi sembra, non so poi Quanto è capitato Grazie a Dio avevo già la pensione Per cui non ho avuto questo tipo di problemi Però ci sono anche, ripeto, nella comunità Un paio di case nella chiesa Dove proprio hanno subito O per malattie o per incidenti Non avendo assicurazione Purtroppo, si sa Quello si fa finta di non sapere Ma, specie nel sud, insomma Devi essere fortunato per avere un part time Però la stragrande maggioranza Ti fanno lavorare E praticamente ti fanno lavorare a nere Se, disgraziatamente, ti capita un incidente Dopo non ti riconosci più niente Nessuno Per cui tutti questi confronti Sono veramente situazioni Che il disabile, insieme alla sua famiglia Deve affrontare Se veramente non c'è questa forza interiore E spirituale Ecco, qui noi abbiamo, lo possiamo dire Un'arma in più Perché la fede nel Signore E sapere che il Signore non ci lascia Non ci abbandona Non è soltanto una teoria Ma è una realtà Perché poi scopriamo Veramente come dice Davide In uno dei suoi salmi E lo affermo anche io Insomma che ormai sono a 75 anni Però da quasi 70 anni Nell'ambiente evangelico Posso dire insieme a Davide Io ero un fanciullo Adesso sono diventato vecchio Ma non ho mai visto il giusto abbandonato E né il suo figlio Chiedere l'elemosina Abbiamo un Dio grande Bene Pastore Sandro Stiamo parlando un pochettino Dei cambiamenti Che genera poi La disabilità E gli effetti anche talvolta Sul piano psicologico Ora tu in parte li hai vissuti Poi da sociologo Ti occupi di questa materia Puoi dirci qualcosa? Sì, certamente Diciamo subito che l'accettazione Della condizione di disabilità Non è mai un processo facile Richiede tempo Richiede rielaborazione Riorganizzazione Della propria vita Della propria esistenza Solitamente il primo impatto psicologico È quello del lutto Cioè la persona con disabilità Per una malattia O per un incidente In un primo momento Si troverà ad affrontare Quelle che sono Le classiche fasi del lutto Cioè la prima fase È quella dell'incredulità Della negazione Di un fatto Di una malattia Di un problema Che mi vede invalido Che non mi vede più Non mi vede più Al 100% Il secondo aspetto È l'aspetto della protesta Cioè quando si reagisce Quando non si vuole credere Non si vuole accettare la situazione E rabbia sostanzialmente E quindi la rabbia Esatto E poi c'è una terza fase Che è quella della disperazione Cioè quando uno prende atto Che la situazione è irreversibile Non cambia E a questa segue poi La fase del distacco Della riorganizzazione Della rielaborazione Della propria esistenza Ora dobbiamo tenere presente Che non l'abbiamo dette volando Ma queste fasi Sono fasi che durano tempo Possono durare anni Non è facile Trovarsi all'interno di queste fasi E bisogna attraversarle E superarle Perché rimanere intrappolati All'interno di una di queste fasi Significa poi fare i conti Per tutta la vita A questo c'è da aggiungere Anche la non accettazione Sempre a livello psicologico Non solo della situazione propria Ma di quella dei familiari Solitamente Quando una persona È colpita Da un problema di disabilità Tutta la famiglia diventa disabile E allora viene destabilizzata In tutto questo E allora ecco che Da parte della persona disabile Rancore Rabbia Frustrazione Per non poter più fare le cose di prima Quindi sono tutti i sentimenti Che escono fuori E in molti casi Abbiamo constatato Anche un problema di regressione Cioè la persona con disabilità Vive una regressione Come un bambino Diventa un bambino Al centro dell'attenzione Che richiede Non solo attenzioni Ma continui cure E quindi bisogna Prendere continuamente A cuore E cura La persona con disabilità Diciamo Queste sono Le prime E più drammatiche Fasi Che a livello psicologico La persona con disabilità Si troverà Ad affrontare Sicuramente è molto interessante Conoscere questo Che ci viene trasmesso Appunto Anche perché poi Martina Voi l'avete vissuta Nella vostra vita Nella vostra esperienza E proprio questo Volevo chiederti Quando poi Questa disperazione Diventa speranza Diventa Dico Dico Quando è che in questo buio Ecco Si può accendere una luce Stiamo parlando anche Dell'accettazione Anche poi dopo Nel contesto sociale Però è sul piano personale Della vostra vita Anche Sul piano personale Allora Dovete pensare Che Quando Quando mi hanno investito Io avevo 25 anni Quindi Credo che L'età Un po' Faccia anche la differenza No Avevo Di fronte a me Una vita Dei sogni Che si sono andati A infrangere Sul muro Della disabilità Per cui Anche se Giustamente Come ha detto Il pastore Michele C'è una La parte della fede Noi eravamo già pastori Per cui La fede L'aiuto di Dio Di Gesù Non è mai mancato Assolutamente C'è la parte umana Che deve accettare Che non è più come prima Non sarà mai più come prima Se non interviene Dio E non ti guarisce Completamente Ci sono assolutamente Degli aspetti Positivi Perché impari Delle cose Che non avresti mai imparato In tutta la vita Ma Vivere con una disabilità E riprogrammare Una vita Giovane Una famiglia Giovane Con una disabilità È una cosa Terribile E la citazione Arriva per gradi E tante volte Si pensa di essere arrivati Ad accettare Ti si pone di fronte Una situazione Magari di stress O puramente Una cosa da superare Ed ecco che riaffiora Però se io non fossi disabile Questa cosa ce la farei Adesso invece E allora ricominci Insomma diciamo Che quelle fasi del lutto Di cui ha parlato Sandro un attimo fa Possono anche riproporsi Anche per chi è credente Non meravigliamoci È così Se posso aggiungere Soltanto pochi secondi Noi diciamo sempre Che c'è un miracolo Grandioso Che Dio fa Che è il miracolo Del suo sostegno Nelle difficoltà Ecco Dio non è venuto Molte volte A esimerci Dalle difficoltà E dai dolori Ma ci ha assicurato Sempre la sua presenza Nelle difficoltà E nei dolori E allora questo è Il grande miracolo Riuscire A rendere La propria vita Ancora utile Sì Sì A livello ministeriale Ma anche a livello umano Questo è un autentico Grande Grandioso miracolo Di Dio Quindi Dio è sempre presente Nonostante il dolore Nonostante le difficoltà Nonostante la disabilità E questo è giusto Che lo diciamo Perché è il più grande Perché è il più grande dei miracoli È un autentico miracolo Secondo me In due battute Quali sono poi questi cambiamenti Sul piano Della vita sociale Di un Della vita sociale Un disabile Traumatizzato Sì La vita sociale Ha detto Giustamente Il pastore Un attimo fa Chi abita Per esempio Al sud Italia Ha più difficoltà Di chi abita Al nord Italia È a macchia di leopardo Se vogliamo Se parliamo Di società civile Italiana Chi vive al nord È abilitato Di più È meno Handicappato Perché Quando parliamo Di handicap Parliamo proprio Dell'aspetto sociale Che ti rende più Disabile Al sud Che non al nord Per cui Insomma Diciamo L'accettazione Dipende assolutamente Dall'ambito sociale In cui una persona Viene a vivere Io non riesco Ad uscire Di casa Senza avere vicino Mio marito Perché I marciapiedi Hanno le buche Hanno i gradini È difficile Difficile Vivere In un ambiente Che non ti Include È questo È questo Il problema L'accettazione A livello Umano Interiore Di fede Dipende appunto Dalla fede Che una persona Vive È assolutamente Dio è vicino A noi L'ambiente sociale Però Fa la sua parte Se si è In un ambito Sbarierato Si riesce meglio Quindi Tu dici Bisogna combattere Contro Questo mostro Dell'esclusione sociale Assolutamente La società Tende In qualche maniera Ad emarginarti Ad escluderti A mandarti In periferia Però Dici È stato fondamentale L'aiuto Di tuo marito Assolutamente È tuttora Fondamentale Questo sicuramente È l'elemento Che accende Accende la luce Ecco Sandro Ora tu Chiaramente Hai vissuto Da marito Da giovane Marito Questo dramma Che in qualche maniera Colpisce la vita Colpisce la vita Di Martina E che di riflesso Affetta un pochettino Tutta la tua famiglia Quanto è importante Il sostegno E la vicinanza Dei familiari Dei parenti Certo Con disabilità Quindi la persona Che soffre A considerare Che la propria vita Può essere Ancora Una vita Che vale Che vale La pena Vivere Insomma Nonostante La disabilità Anche questo Non è un processo Semplice Perché La disabilità Di Martina È stata La mia disabilità Il suo dolore È stato Il mio dolore E quindi Questo fatto Ha destabilizzato La nostra famiglia Ha destabilizzato Le chiese Avevamo due chiese Pasturavamo due chiese Quindi due chiese Destabilizzate Da questo fatto Non è mai mancato L'aiuto di Dio E questo È il grande miracolo Però Come bisogna reagire Come famiglia Ecco Uso un termine tecnico Ma Spero di riuscire A spiegarlo La famiglia Si deve porre Come elemento Di incoraggiamento Per dare Un riorientamento Di significato E di senso Alla propria vita Cioè Ridare scopo Alla vita Io posso Se ho Con le giuste accortezze Con il giusto Incoraggiamento Se mi si dà La possibilità Posso fare Della mia vita Ancora qualcosa Di utile Per gli altri Allora Questo psicologicamente Fa la differenza Questo è molto importante Quindi Un riorientamento Di significato Della propria esistenza Come abbiamo già detto Cristianamente Noi possiamo affermare Che Dio Non è venuto A spiegarci La sofferenza Ma a riempirla Con la sua presenza L'amore di Dio Non ci esime Dalla sofferenza Ma ci sostiene In ogni sofferenza Cioè Dio è presente Allora La famiglia Deve essere presente La chiesa Deve essere presente La società civile Dovrebbe essere presente Le istituzioni Il territorio E questo Che cosa fa? Questo facilita La persona con disabilità A riprendere fiducia In se stessa Non è finita Con Dio Non è mai finita Non esiste la parola fine Per il Signore Perché Dio Può usarsi di noi Se scoppiamo di salute Ma anche quando La salute non c'è Uno dei grandi apostoli Della fede Che è l'apostolo Paolo Ha detto Che quando sono debole Allora sono forte Cioè La mia forza Si dimostra perfetta Nella debolezza E allora lì C'è il grande miracolo Di Dio Dove Nonostante la disabilità Dio continua A operare potentemente Attraverso la sua parola Quindi La famiglia Deve essere presente La Chiesa Deve essere presente Dobbiamo sforzarci Di avere questa visione Questa mentalità La Chiesa deve essere presente Sembra uno slogan A precedente trasmissione Abbiamo detto La Chiesa Deve fare la differenza Io credo Che nel sentire Queste testimonianze Dirette Dovrebbe nascere Nel cuore di ogni credente Di occuparsi In qualche maniera In qualche forma Della disabilità Di qualche fratello Di qualche amico Di qualche conosciuto Anche con una telefonata Anche semplicemente Dicendo Se ti posso aiutare A fare qualcosa a casa Sono a disposizione Un segno di affetto Un aiuto concreto Credo che faccia parte Dell'agenda Della Chiesa Dei credenti Singolarmente Martina Tu invece Come hai trovato Un nuovo equilibrio Che ti ha aiutato A vivere meglio Dico tu Ma come Spiegare Questa possibilità I nuovi equilibri Assolutamente passano Attraverso quelle fasi Di cui ha parlato Un attimo Fa Sandro Diciamo che Dipendono Dall'età Della persona Ma sicuramente Debbono andare A trovarsi All'interno Della fede Della fede In Cristo Gesù Perché Perché Il Signore Interviene Prima di tutto Dentro di noi Tante volte Come diceva Anche In un'altra domanda In un'altra risposta Che ha detto Il pastore Michele Tante persone Vengono Con tanto entusiasmo Pregano per te Si Sventagliano No? Così La guarigione Si 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 Dicono Fanno preghiere Per Imposizione di mani Eccetera Ora Io credo assolutamente Nella guarigione Assolutamente Nella guarigione Però Prima Dobbiamo Guarire dentro E Bandire l'offesa Ci sentiamo Offesi Dalla disabilità Per ritrovare Veramente L'equilibrio Dobbiamo confidare Nel Signore Affidarci a Lui E sapere che Lui Ci capisce Profondamente Capisce profondamente La nostra sofferenza E ritrovare Gli equilibri E anche Riuscire a ritrovare L'equilibrio All'interno Delle relazioni Familiari All'interno Della chiesa Farsi capire E io ho ritrovato Equilibrio Con il tempo Con l'aiuto Di mio marito Naturalmente Devo dire L'Italia E le politiche sociali Non aiutano Assolutamente Se devi fare affidamento Su questo Insomma Siamo degli illusi E' giusto Predicare Tutto l'Evangelo Perché Dio La parola di Dio Ci dice Che Nel mondo Avremo tribolazioni Fatevi animo Io ho vinto il mondo Ma nel mondo Avremo tribolazioni E' anche scritto In ebrei E si parla Dei testimoni Della fede Tanti hanno Vinto Su delle Battaglie Incredibili Tanti invece Sono morti Vediamo anche Gli apostoli Tanti sono stati Martirizzati Per cui Dobbiamo Prendere Tutta la parola Di Dio Tutto quello Che è scritto Farla nostra E sapere Che abbiamo Un Dio Che ci Capisce Che ci comprende Profondamente Questo deve essere La chiave Per poter Ritrovare Ritrovare equilibrio Di lasciarti andare La forma più cupa Di una depressione Di una Di un'arresa A una vita Che poi invece Ha fatto scattare Questa voglia tua Di essere invece In prima linea Di dedicarti A A questa Missione Di Insegnare Di guidare Di aiutare Non è Non è stato Semplice Perché la chiamata Al ministero Credo che Insomma Sei d'accordo È come Fuoco che brucia Dentro Ok Poi siamo stati Educati In una maniera Per cui Vogliamo assolutamente Con la parola Di Dio Vincere Per cui per me All'inizio è stato Un vero lutto È una vera sfida Succedeva però Tutte le volte Che io venivo Ricoverata Per una Riabilitazione Che mi trovavo Di fronte Delle persone Con delle situazioni Incredibili Alle quali Non potevo Non parlare Di Gesù Non potevo Non parlare Della speranza Che avevo Viva Dentro di me E Questo Mi ha stimolato Io mi ricordo Una cosa In particolare Quando Abbiamo dovuto Lasciare Le nostre chiese Perché stavo male Io ho detto In un ricovero Non parlerò Signore Non mi chiedere Di parlare A nessuno Del Signore Di te Perché io Non ti stimonierò Affatto Perché questa È una sconfitta Per me Appena sono Entrata All'ospedale Di Monte Cattone Di Imola Mi si è fatta avanti Una persona E mi hanno detto Oh guarda tu È ritornata La predicatrice Io mi sono sentita Accolta In fallo E ho pensato Ma Signore Sei proprio ironico Tu me la vuoi proprio fare Sotto il naso Dovrò anche Questa volta Parlare di te E ringrazio Dio Perché Signore Ci dà veramente La forza Per continuare Passoe Michele Penso che Una tua esperienza Pastorale Ha avuto modo Di seguire E accompagnare Anche Nelle fasi Più terminali Della disabilità Quindi questa Sofferenza Sia quando Può essere Terminale O quando anche Poi si stabilizza Con Gli effetti E i danni Che Possibile Poi dopo Considerare Certo Allora Pastoralmente Devo Testimoniare Questo che Ho vissuto E vivo Cioè È Implicito In ognuno Di noi Di pensare Sempre Che il Signore Ci deve guarire Ma C'è L'altra La grande Sfida Prima Fratello Faceva accenno All'Apostolo Paolo Ma c'è Una frase Che è Una sfida Tremenda Quando Paolo Dice Io piuttosto Mi glorierò Delle debole Cioè Gloriarsi Di una Menomazione È pazzia E allora Che cosa Succede Qual è L'esperienza Che io Faccio Perché purtroppo Oh Grazie a Dio Una cosa Quando mi trovo Tanto Spesso Mi è successo Di stare Di stare Al capazzale Di un Ammalato Che so Che Gli rimangono Che sia Giovane Che sia Anziano E io Faccio sempre Questa domanda Non maliziosa Ma Per Sondare Un poco Il terreno Che ho davanti E chiedo Per cosa Vuoi Che prego Guarda 99% Mi chiedono Anche quando mi trovo Di fronte a persona Che ha più di 90 anni Mi chiederà Sempre Prega Che il Signore Mi guarisce Cioè Dico Forse È difficile Accettare Questa realtà Anche se La morte Sappiamo Non è la condizione È una condizione Che noi Non accettiamo Perché il Signore Ci ha creato Per vivere Per sempre Questo è lo scopo La morte Purtroppo è stata Un'imposizione A causa del peccato Allora è innaturale Morire Per cui anche Però Ti devo dire Casi rari Però ho trovato Tante persone Che Mi hanno detto Sono pronto Prega che il Signore Mi porta con sé Specie quando poi Ci sono Delle sofferenze Atroci Se c'è una Che Mi chiede sempre Prega che il Signore Mi porta a casa È mia mamma E dico Mamma non me lo dire Perché io non pregherò mai Il Signore Che ti porta a casa Lei fa poco Fa 96 anni Però grazie a Dio È lucida È una donna Di preghiera E mi dice sempre Questo è L'anno In cui Me ne vado Ha cominciato Nel 75 Ci faccio Faccio un pranzo Con tutti i miei figli Ci porta al ristorante Perché il Signore Lei è l'unico Veramente che è gioiosa Di andare A casa E mi dice ogni anno Dico no mamma Dobbiamo fare la festa A 100 anni Quando Il Signore Ci verrà a fare Una grande festa Perché Ti ha dato Grazie di vedere Siamo 5 generazioni Che stiamo servendo Il Signore Credo che questo È una cosa Per cui anche Nelle debolezze Grazie Signore Anche per l'indicato L'importante Che tu sei con noi È vero C'è questo Istinto umano Di conservazione Perché fa parte Della nostra natura Ma è altresì pure Vero Che ci sono Di fronte poi Alla Come dire All'ineluttabile Momento Molti credenti Confortano Chi va lì Per essere Per confortarli Confortano loro Perché in quel momento La fede Prende il sopravvento No La realtà Della propria Dimensione Dimensione Spirituale Emerge in tutta La sua Forza E la sua Profondità Ringraziamo Cari telespettatori Tutti voi Per la vostra Attenzione Così come Ringraziamo I nostri Cari Oratori Che sono venuti Per condividere Con noi Questo tema Dell'accettazione Il pastore Michele Romeo Martina E Sandro Vogliamo invitarvi Per la prossima Trasmissione Laddove Parleremo Sulla persona Portatore Di Disabilità E il suo Mondo Interiore Alle volte Diventa più facile Constatare Lo stato Di La condizione Esteriore Ma Chi conosce il mondo Interiore Di chi sta Soffrendo Ne parleremo Alla prossima Trasmissione Perciò vi salutiamo E vi diamo appuntamento Al prossimo incontro Dio vi benedica Alla prossima Grazie a tutti.